Per creare un progetto React con supporto TypeScript possiamo utilizzare facilmente e velocemente VIT, un comodo tool che ci permetterà di creare diverse tipologie di progetti da VIEW, Svelte, Lit e molto altro. Per avviarlo possiamo utilizzare NPM Create VIT at Latest per usare l'ultima versione del tool. Decidiamo il nome di un progetto, in questo caso React Intro, e la tecnologia React e poi possiamo selezionare TypeScript. Il progetto è stato creato, non ci resta che accedere alla cartella e installare tutte le dipendenze necessarie al funzionamento di React e anche di VIT che si occuperà poi anche del web server, della build e via dicendo. Una volta finita l'installazione possiamo aprire il progetto nell'editor preferito utilizzando Code. per aprire Visual Studio Code o nel mio caso WebStorm. Il progetto viene aperto nella root e se apriamo il file app.tsx vediamo già un po' Hello World che adesso andiamo a visualizzare semplicemente aprendo il terminale e avviando il comando npm run dev. Clicchiamo sul link che ci viene proposto e verrà aperto il browser con l'esempio che vediamo in app.tsx. Cliccando infatti sul counter vediamo che questo viene incrementato ma di questo parleremo poi quindi al momento io consiglierei di cancellare tutto quello che c'è all'interno del return lasciando esclusivamente il div cancelliamo lo state e tutti gli import perché tanto ne parleremo poi. Nel momento in cui salviamo il file vedrete che l'applicazione viene automaticamente aggiornata e questo è dovuto a un meccanismo chiamato Hot Reload. Ogni volta che viene salvato un file la vostra applicazione sostanzialmente viene riprocessata e quindi aggiornata in tutti i contenuti. In questo caso abbiamo tolto il template e di conseguenza non si vedrà nulla. Se invece aggiungiamo ovviamente adesso un testo lo vedremo in posizione. E si vedrà in questa posizione semplicemente perché nel file main.tsx viene importato il file index.css che contiene alcune regole css globali che influiscono sulla pagina. Main.tsx è il primo file che viene caricato con l'applicazione e si occupa di renderizzare il componente app di cui parleremo nei prossimi video all'interno di un div root. Div che è contenuto nel file index.html e all'id root proprio quello utilizzato da main.tsx per renderizzare il componente app. Quindi possiamo aprire il file index.css rimuovere tutto il contenuto e avremo finalmente una pagina bianca.